Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Voi sapete ci sono alcuni argomenti che vorrei raccontarvi ma che sono a volte troppo piccoli per poterci fare intorno una pillola, vuoi perché ci sia poco materiale o perché obiettivamente la cosa da raccontare è molto limitata. E così a volte mi piace cercare di raccogliere alcuni di questi argomenti in un'unica pillola tematica per mostrare un pochettino quanto di curioso realmente ci sia nella storia. Un giorno forse aprirò un canale TikTok così potrò fare delle pillole di 10 secondi ma forse non è ancora questo momento. Insomma, quella puntata di oggi è dedicata ad una curiosità cioè ad alcuni tentativi di creare delle unioni tra stati. Ora, come voi sapete, nella storia ci sono stati degli stati che hanno deciso di unirsi per creare un'unica entità, talvolta poi un'entità che veniva unita tramite la guerra o tramite la diplomazia, come ad esempio la Germania o l'Italia, talvolta delle entità che invece decidevano di fondersi attorno alla figura di un sovrano o piuttosto semplicemente per creare un nuovo Stato. Penso ad esempio al regno di Polonia-Lituania che per tanto tempo ha dominato l'Oriente dell'Europa. In mezzo a queste unioni reali, che poi sono realistiche semplicemente perché sono avvenute, perché credo che se non fosse mai stato il Commonwealth polacco-lituano noi oggi diremmo che sarebbe assurdo pensare un'unione del genere e invece è esistita e quindi ci crediamo. In mezzo a tutte queste unioni reali, ci sono anche delle unioni che sono state proposte per un certo periodo di tempo sono state realistiche e poi sono scomparse. O meglio, non sono mai avvenute. Vuoi perché i popoli non fossero d'accordo, vuoi perché non si sia trovato invece un accordo tra i rispettivi capi di Stato o vuoi talvolta per l'intervento di altre potenze che non volevano la nascita di un nuovo Stato. Insomma, la puntata di oggi, che mi in parte è stata suggerita anche da qualcuno di voi, nasce proprio per raccontare di queste unioni incredibili che non ci sono mai state. La prima unione di cui parliamo oggi, l'avete visto dal titolo, è l'unione tra la Francia e l'Inghilterra. Ora, io mi rendo conto che è difficile immaginare uno scenario del genere, anche perché la Francia e l'Inghilterra sono due stati, la Francia e la Gran Bretagna, chiamatele come volete, sono due stati che nell'ultimo millennio si sono combattuti un'infinità di volte, da Guglielmo il conquistatore, la guerra dei cent'anni, la guerra dei sette anni, le guerre napoleoniche. Insomma, io continuo ad usare il termine guerra per farvi capire come in effetti questi due stati siano stati pronti a scontrarsi più volte. Certo, ci sono stati dei momenti in cui uno dei due stati sembrava poter sottomettere l'altro. Pensiamo ad esempio dopo la battaglia di Asincur, quando Enrico V fu veramente sull'orlo di conquistare il trono francese e di unire i due stati. Per l'altro ci sono molti cronie che partono proprio da questo avvenimento. Ma un'unione tra questi due stati così diversi sembrava essere assolutamente impossibile. In realtà, come tutti voi sapete, nel corso degli ultimi 120 anni i due stati si sono progressivamente avvicinati e da sostanzialmente nemici giurati ad un certo punto su tutti i continenti, con l'apice nell'episodio di fascioda di cui ho parlato in una scorsa puntata, si giunse invece ad un accordo diplomatico militare in funzione antitedesco. Di una vera e propria unione però non si è parlato per molti anni. Vuoi perché comunque erano due stati potenti, vuoi perché in tanti altri ambiti continuavano i rapporti conflittuali che vedevano ora l'Inghiterra, ora la Francia giocare sul campo di battaglia del mondo contendendosi le rispettive colonie. A spingere verso un'unione sarebbe dovuta essere la Germania. La prima volta in che infatti si parlò di unire la Francia ed l'Inghiterra fu tra il 13 e il 14 giugno 1940. Per chi non lo sapesse siamo in piena seconda guerra mondiale. Francia e Inghiterra sono alleati contro Hitler, contro l'armata di Hitler, che però, grazie alla genialità dei suoi generali e alla forza delle sue truppe, è riuscito a sfondare il fronte francese con le truppe francesi che sono in ritirata e hanno abbandonato Parigi e quelle inglesi che sono costrette e costrette a reimbarcarsi in tutta fretta a Dunkerque. In questo caos che di via pochi giorni porterà alla caduta e alla resa della Francia, qualcuno però vorrebbe che i francesi continuassero a combattere. Ovviamente a volerlo sono gli inglesi, che sono in quel momento con a capo Winston Churchill, da poco diventato primo ministro, ma a volerlo sono anche molti ministri francesi che vorrebbero continuare la lotta, non vorrebbero arrendersi e vorrebbero in qualche modo legarsi all'Inghilterra per continuare a lottare contro i tedeschi fino alla fine. Churchill, proprio tra il 13 e il 14 giugno 1940, fa così una proposta che a prima vista sembra incredibile. La proposta è quella di unire i due stati in un unico stato, in un'unica nazione, che avesse ministri inglesi e ministri francesi, che potesse avere capi di stato che si alternavano tra l'Inghilterra e la Francia e che soprattutto potesse mettere in condivisione le forze armate, le risorse, l'organizzazione, in modo da continuare la guerra contro Hitler. Una proposta di questo tipo sembrava essere assolutamente folle. Eppure, all'interno del governo francese, molti la appoggiarono perché la videro come l'unica possibilità di non arrendersi. Tra coloro che la appoggiarono, incredibilmente, all'epoca ci fu De Gaulle. E dico incredibilmente perché poi è difficile pensare a un politico francese maggiormente legato alla grandeur e alla forza di Francia, quando poi diventerà presidente di De Gaulle. Eppure, all'epoca proprio, all'epoca era un sottosegretario, volendo continuare la guerra, decise di far parte proprio della fazione che appoggiava quest'unione. Tanto che lui stesso si recò in Inghilterra proprio per colloqui con Churchill per cercare un accordo. Alla fine, però, come sapete, a spuntarla sarà l'altra fazione, quella guidata dal maresciallo Petain, che ebbe a dire addirittura che preferiva diventare una provincia dell'impero nazista piuttosto che cedere tutto il territorio francese all'Inghilterra che alla fine l'avrebbe nominato. E così la Francia decise di arrendersi, ci fu la Francia di Vichy e poi tutto il resto della storia che noi conosciamo. L'idea di un'unione tra la Francia e l'Inghilterra però non scomparve proprio del tutto. Certo, non se ne parlava, ma alcuni politici continuavano ad averla in mente, soprattutto nel dopoguerra, con l'idea di creare una nazione che se i due ex imperi ormai erano indeboliti potesse tornare ad assurgere al ruolo di potenza egemone del mondo. A riparlarne, in effetti, si fu nel 1956 dopo la crisi di Suez. Anche di questo ne ho parlato in una pidola. La crisi di Suez fu quello scontro che i francesi e gli inglesi ebbero con gli egiziani per cercare di riappropriarsi del canale di Suez che l'Egitto aveva nazionalizzato. Ora, ovviamente, il canale di Suez era non solo molto importante dal punto di vista strategico ed economico, ma anche uno dei simboli del potere coloniale europeo. La Francia e l'Inghilterra, congiuntamente, intervennero contro l'Egitto, che aveva appunto nazionalizzato il canale, se ne era appropriato, riuscendo a tutti gli effetti a sconfiggere gli egiziani e a prenderselo, ma venendo poi letteralmente fermati a viva forza dall'Unione Sovietica e dagli Stati Uniti che imposero loro il ritiro, salvando in questo modo l'Egitto e dimostrando che ormai il mondo era diviso tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti piuttosto che, come era fino a pochi anni prima, tra la Francia e l'Inghilterra. Insomma, una botta terrificante alla grandeur francese e all'impero inglese. In questa situazione, pare, pare perché in realtà è una cosa che venne raccontata dalla BBC con tanto di documentazione, ma che all'epoca non trasparì in nessun modo, pare che il primo ministro francese Guy Mollet avesse proposto, in effetti, al suo omologo inglese Eden, una possibile unione tra i due Stati. L'idea era proprio quella di unire i due Stati in un'unica nazione, unire i due imperi coloniali, creare un unico governo che avrebbe dovuto avere al suo capo la regina Elisabetta e un primo ministro francese, in modo da fare da contraltare, e un governo appunto con ministri misti francesi e inglesi. L'idea, come dicevo, era quella di creare un unico grande impero che potesse mettere insieme risorse, forze armate, colonie e tornare letteralmente a dominare il mondo o quantomeno ad essere un terzo polo fra gli altri due, tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. In realtà non se ne fece niente, non se ne fece niente perché non c'era un vero appoggio né da parte dell'opinione pubblica né da parte dei rispettivi governi, e non se ne fece niente anche perché Eden preferì legarsi, invece, mani e un po' i piedi agli Stati Uniti, tanto che sostanzialmente si dice che dalla crisi di Suez in poi l'Inghilterra sarà legata proprio agli Stati Uniti e, a parte la guerra delle Falkland, non se ne allontanerà più dal punto di vista politico. Questa notizia, come detto, all'epoca non circolò minimamente. Uscirà fuori solo all'inizio del XXI secolo grazie ad un intervento della BBC che andrà proprio a riscoprire alcuni di questi carteggi tra Mollet ed Eden che parlavano di questa possibile unione, in cui veniva fuori anche una proposta di nome per questo nuovo Stato, che si sarebbe dovuto chiamare, nell'idea di Mollet, Frangleterre, cioè l'unione tra France e Angleterre in francese, che io, nel titolo della pindola, ho tradotto come Frangleterra, prendendo letteralmente i nomi in italiano. Devo essere sincero, è difficile pensare che un'unione del genere potesse nascere, anche perché gli interessi economici francesi e inglesi da lì in poi si separarono molto rapidamente. La Francia troverà sì un nuovo partner dal punto di vista economico, ma non lo troverà di là dalla manica nel suo vecchio alleato, ma lo troverà nel suo vecchio nemico, perché negli anni successivi, progressivamente, la Francia e la Germania si legheranno sempre di più, diventando poi uno dei centri dell'Unione Europea, perché se l'Inghilterra si legherà all'Inghilterra, la Francia, dopo questo rifiuto di unione, andrà invece a diventare uno dei fondatori proprio della comunità della Ceca, della comunità del carbone, poi della comunità economica europea, e alla fine dell'Unione Europea. E' oggi uno dei suoi nuclei, insieme proprio alla Germania, con cui è uno dei principali partner. Chiudendo il capitolo della Francia e dell'Inghilterra, che credo sia interessante per mostrare come un'unione possa nascere nella difficoltà per cercare di creare uno Stato più grande, ci spostiamo invece nei Balcani, per vedere come un'unione talvolta possa essere avversata non tanto dai popoli che la compongono, quanto da tutti quelli che ci sono intorno. E sto parlando, e tra l'altro l'idea della pillola nasce da qui, proprio da un vostro consiglio, della possibile unione tra la Romania e la Bulgaria. Ora, la Romania e la Bulgaria, in effetti, nei secoli, sono stati più volte unite all'interno dello stesso Stato, senza andare a pensare a quando furono conquistati dall'impero ottomano, basta ad esempio pensare all'impero bulgaro, l'impero bulgaro storico, che univa in effetti i territori della Romania e della Bulgaria durante la sua massima estensione. L'idea di formare un unico Stato che unisse questi due territori, a dispetto peraltro di, ad esempio, una lingua molto diversa, ma questo pareva non essere un problema, rimase però un'idea forte anche nel corso del XIX secolo. In realtà, come vi ho parlato durante la serie dedicata ai Balcani, soprattutto nella prima parte del XIX secolo, molti patrioti balcanici dei vari stati avevano in mente l'idea di creare un'unica grande confederazione di stati balcanici, di stati slavi, che potessero, unendosi tutti insieme, essere un vero Stato guida dell'Europa, un centro di potere balcanico che avrebbe dovuto, nell'idea, unire i popoli, che possiamo chiamare gli Jugoslavi, quindi croati, sloveni, bosniacchi, eccetera, gli albanesi, su cui però c'era qualche dubbio, qualcuno li vedeva al di fuori per il loro legame con l'impero ottomano, i bulgari, quindi mettendo insieme tutti gli slavi del sud, e poi i rumeni, con qualcuno che estendeva la cosa anche ai greci, che però peraltro venivano visti invece come un gruppo a parte. Questo movimento di unione dei popoli slavi in realtà aveva molti oppositori che crebbero man mano che, come vi ho raccontato nella storia dei Balcani, i rapporti tra i vari stati andavano peggiorando, con gli stati che iniziavano ad avere delle rivendicazioni incrociate, a volere gli stessi territori, insomma, a combattersi l'un l'altro piuttosto che cercare di combattere gli avversari esterni. Eppure, tra tutti questi stati, la Bulgaria e la Romania furono quelli più vicini ad unirsi. La cosa avvenne in due momenti diversi. Ora, sarò molto riassuntivo per gli avvenimenti. Ripeto, se volete approfondirli andateveli a vedere nella serie sui Balcani. Lì viene spiegato tutto un pochettino in maniera più estesa. Il primo momento fu letteralmente alla nascita della Bulgaria. Ora, come vi ho raccontato nella serie sui Balcani, alla fine della guerra tra gli Ottomani e l'impero russo nel 1878 nacque nel 1877 poi nel 1878 nacque sulla carta la Bulgaria. Il primo accordo di pace tra i due stati infatti prevedeva delle cessioni territoriali enormi per gli Ottomani che ne erano usciti sconfitti e tra queste proprio la nascita di una nuova Bulgaria la quale nella prima versione avrebbe dovuto essere autonoma mentre poi nell'accordo revisionato grazie all'intervento delle grandi potenze divenne semplicemente un principato con una larga autonomia all'interno dell'impero ottomano. Chi mettere però a capo di questa nuova Bulgaria era un dubbio era un dubbio che in effetti attanagliò molti si parlava di un principe bulgaro cosa che ovviamente non era voluta dall'impero ottomano che avrebbe visto in questo modo la Bulgaria uscire completamente dalla sua orbita qualcuno parlava di un principe russo ovviamente le potenze non erano di questa idea perché sì la Bulgaria si sarebbe comunque legata alla Russia ma così sarebbe stato troppo ad un certo punto si parlò di mettere a capo della Bulgaria Karol di Romania che era principe di Romania ed era appena diventato appunto diventerà di lì a poco re di Romania l'idea era quella di avere sostanzialmente due stati con due forme giuridiche diverse perché uno completamente autonomo cioè la Romania e uno comunque all'interno dell'impero ottomano che fossero governati dallo stesso monarca è ovvio che in una situazione del genere i due stati sarebbero stati molto connessi perché un unico sovrano li avrebbe uniti in due e anche se una parte fosse stata in realtà sotto contro l'ottomano probabilmente in questo modo si sarebbe giunti molto rapidamente alla formazione di un unico stato così come poi si giunse all'autonomia della Bulgaria Karol inizialmente aveva dei dubbi soprattutto perché dei dubbi li avevano i suoi ministri che temevano dopo tutto ed è una cosa abbastanza logica temevano che l'ingresso in unione di uno stato grande e popoloso come la Bulgaria potesse far perdere di importanza la Romania all'interno di questo nuovo stato e potesse così creare delle tensioni dall'altra parte curiosamente all'inizio ad essere molto attratti dall'idea di quest'unione erano invece i bulgari che lo vedevano proprio come la via più rapida per portare alla nascita di uno stato autonomo e staccarsi definitivamente dagli ottomani inoltre molti sia bulgari che romeni vedevano nella nascita di questo nuovo stato la possibilità di creare uno stato del tutto autonomo e soprattutto potente nei Balcani che potesse sì staccarsi dagli ottomani ma allo stesso tempo senza cadere nell'orbita russa è ovvio che questo piano venne fin dall'inizio osteggiato proprio dai russi che avevano combattuto con gli ottomani per mettere le mani sui Balcani e che se invece avessero visto la formazione di uno stato così grande molto probabilmente avrebbero perso il controllo proprio su quei territori sempre per la solita idea del divide e timpera crea degli stati piccoli e li potrai controllare in opposizione a questo ci furono anche le potenze in particolare l'Austria che anche a sua volta malvedeva l'idea di uno stato che nascesse nei Balcani e che gli si potesse opporre tanto che alla fine con il ritiro proprio di Carol di Romania sarà Alessandro di Battenberg a diventare principe di Bulgaria la situazione si ripresentò pochi anni più tardi nel 1886 Alessandro era stato deposto Alessandro di Battenberg era stato deposto da un colpo di stato colpo di stato filo russo date le sue posizioni che avevano visto allontanarsi proprio dalle posizioni russe un colpo di stato che era stato poi contrastato da un contro colpo di stato che aveva rimesso proprio Alessandro di Battenberg sul trono per evitare una guerra civile però questi aveva deciso di ritirarsi e rinunciare alle sue pretese sul trono ripeto ve la sto facendo molto semplice se volete approfondire andate a guardare nella serie sui Balcani ebbene a questo punto fu necessario cercare un nuovo sovrano un nuovo sovrano che di nuovo fu proposto potesse essere Carol di Romania diventato intanto appunto re di Romania ancora una volta ci furono due schieramenti chi era favorevole e chi era contrario questa volta Carol era decisamente più convinto dell'idea di poter unire le due nazioni anche perché la Bulgaria si era ormai staccata dal dominio ottomano e quindi avrebbe potuto rappresentare un nuovo stato completamente unito tra le due nazioni ancora una volta c'erano dei dubbi tra i rumeni molto meno dubbi tra i bulgari esattamente come otto anni prima però di intervenire furono di nuovo le potenze che ancora una volta malvedevano l'idea di un unico grande stato balcanico che potesse diventare un loro concorrente e così ancora una volta con il ritiro di Carol che non aveva intenzione di inimicarsi la Russia non aveva intenzione di inimicarsi la Ostrongheria insomma era un uomo probabilmente ragionevole che si rendeva conto che forzare un'unione in opposizione ai grandi stati vicino avrebbe potuto isolare diplomaticamente un nuovo stato e quindi essere foriero di guerre o della sua dissoluzione alla fine si decise per scegliere un nuovo principe ancora di origine tedesca Ferdinando di Coburgo Gotha insomma un uomo diverso che mise definitivamente da parte l'unione tra la Bulgaria e la Romania un'unione che a tutti gli effetti poi scomparve completamente dalle possibilità quando i due stati durante la seconda guerra balcanica si scontrarono con la vittoria della Romania che insieme agli altri stati balcanici sconfisse la Bulgaria uscita vincitrice dalla prima guerra balcanica strappandole peraltro anche dei territori di quest'unione si parlerà per un'ultima volta durante l'epoca durante l'inizio dell'epoca comunista nei Balcani dopo la fine della seconda guerra mondiale si formeranno gli stati comunisti in Jugoslavia in Bulgaria in Romania e questi stati torneranno a parlare fra di loro di una possibile unione estesa anche alla Jugoslavia oppure limitata alla Bulgaria e la Romania questa volta ci saranno maggiori difficoltà anche a livello locale perché ormai si erano creati anche dei pessimi rapporti dal punto di vista diplomatico vuoi per la questione della Macedonia vuoi per i territori strappati dalla Romania riassegnati poi alla Bulgaria e che tali erano rimasti alla fine della seconda guerra mondiale insomma una situazione di conflitto fra le nazioni che rendeva difficile l'avvicinamento quando poi Tito decise di staccarsi maresciallo Tito capo della Jugoslavia decise di staccarsi dalle politiche di Mosca l'idea di un grande stato slavo-balcanico si perse del tutto ma rimase ancora un pochettino l'idea di unire la Romania e la Bulgaria ma ancora una volta esattamente come 80 anni prima sarà l'intervento di Mosca in questo caso di Stalin a mettere la parola fine all'idea perché perché ancora una volta Stalin esattamente come gli imperatori Romanov perché la politica cambia ma più o meno alle volte rimane simile non aveva nessuna intenzione di perdere controllo sui Balcani lasciandolo nelle mani di un unico grande stato c'è da dire che quest'ultima ipotesi quest'ultimo caso l'ipotesi era decisamente più peregrina e di difficile attuazione rispetto a quanto fosse invece alla fine del XIX secolo per l'ultima di queste unioni dobbiamo invece spostarci in Medio Oriente ora il Medio Oriente ha conosciuto per alcuni anni un'unione reale la cosiddetta Repubblica Araba Unita è un evento non molto conosciuto ma di una discreta importanza quantomeno a livello delle bandiere la Repubblica Araba Unita nacque nel 1958 dall'unione dell'Egitto con la Siria in effetti era un'unione di tipo prettamente politico anche perché i due territori peraltro non confinavano l'uno con l'altro basato sulla comune ideologia e su un'idea di un'alleanza di tipo militare anche in funzione anti-israeliana quest'unione che formalmente durerà per quasi dieci anni in realtà perderà molto presto di importanza già nel 1961 i due stati si separarono due stati che peraltro a un certo punto erano diventati anche tre quando lo Yemen si era unito a questa Repubblica Araba Unita anche in questo caso unione di breve durata i due stati si separeranno molto presto l'Egitto manterrà però per una decina d'anni il nome proprio di Repubblica Araba Unita anche se ormai era rimasto da solo per poi tornare a chiamarsi Repubblica Araba d'Egitto la curiosità è che la bandiera dei due stati che presentava i colori dell'autonomia araba con le due stelline a rappresentare proprio l'Egitto e la Siria rimase ancora ed è ancora oggi la bandiera della Siria in cui ci sono le due stelle ma questa bandiera ormai ha perso di senso legata appunto al fatto di essere due stati l'Egitto e la Siria ma rimane ancora come la bandiera siriana questo stato rimase solamente dal punto di vista diplomatico aveva un simbolo che era l'Aquila Iupide quindi l'Aquila di Saladino che aveva già unito questi due territori in passato e scomparve di fronte alla difficoltà di integrare due sistemi ma soprattutto due stati potenti e che avevano e volevano mantenere una certa autonomia l'idea di un'unione tra stati arabi per tornare a creare un grande stato arabo che potesse rivaleggiare non dico nel mondo ma quantomeno con i vicini Israele in primis continuò però a rimanere nell'idea di molti e quando nel 1968 la rivoluzione fece cadere il governo libico e portò al potere i rivoluzionari Gheddafi in testa l'idea di un'unione tra questi stati tornò ad essere molto spinta molto voluta proprio da Gheddafi che vedeva forse all'inizio nei rivoluzionari egiziani nei rivoluzionari siriani coloro che l'avevano ispirato in questa presa di potere Gheddafi lo sapete ha moltissimi difetti ha avuto moltissimi difetti ma ha sempre visto l'idea di un'unione tra gli stati arabi come l'unico modo per poter contrastare l'influenza dell'Occidente nel Medio Oriente un'idea giusto o sbagliata che sia che però l'ha spinto per molto tempo a cercarla quest'unione e poi a finanziare movimenti terroristici o patriottici a seconda di come la si vede proprio per cercare di scacciare gli ultimi residui di colonialismo dall'Africa e dal Medio Oriente Gheddafi cercò fin dall'inizio di propugnare quest'unione nella sua idea la nascita di quest'unione avrebbe dovuto vedere la Libia unirsi all'Egitto al Sudan e alla Siria in un nuovo stato che poi man mano avrebbe dovuto invece espandersi e unire fra di loro tutti gli stati appunto musulmani in un unico grande stato arabo inizialmente la Siria e l'Egitto videro l'idea come qualcosa di positivo non tanto perché volessero in effetti una vera propugnione ma perché speravano in questo modo di integrare maggiormente i propri sistemi economici e soprattutto di mettere le mani sul petrolio libico o quantomeno su una parte dei proventi che quel petrolio forniva e quindi sulla ricchezza inizialmente la crescita di questo fronte unito crebbe molto rapidamente nel 1969 la Libia l'Egitto e il Sudan fondarono proprio il fronte unito arabo a cui nel 1970 si unì anche la Siria a cercare di completare questa integrazione nel 1971 ci fu addirittura un referendum tenuto in Libia Egitto e Siria che vide un'affermazione nettissima più del 95% in tutti e tre gli stati dei sì all'unione in realtà nel 1971 l'unione stava già naufragando perché Nasser era morto in Egitto era stato sostituito da Sadat il quale non era così convinto dell'idea di un'unione politica era molto più diciamo egiziano centrico e meno volenteroso di creare una nuova nazione e quindi già alla fine del 1970 aveva proposto che invece di una grande unione stretta fra nazioni con un unico governo unico capo di stato si venisse a creare invece una confederazione con dei vantaggi economici politici ma che mantenesse l'autonomia tra i vari stati cosa che Gheddafi non vedeva invece così positivamente a mettere la pietra tombale su questa idea sarà però la guerra dello Yom Kippur in cui l'Egitto e la Siria decideranno di attaccare Israele senza neanche informare Gheddafi che non solo non potrà inviare truppe ma ripeto non ne verrà neanche informato se non da innotiziare al momento dell'attacco la cosa ovviamente se la legherà al dito e si legherà ancora di più al dito quando alla fine della guerra con Israele vittorioso l'Egitto deciderà di offrire ad Israele proprio una vera e propria pace riottenendo il Sinai in cambio del riconoscimento di Israele stesso e di una vera e propria pace e collaborazione ai confini Gheddafi vedrà questo come un vero e proprio tradimento dell'ideale arabo e deciderà di allontanarsi definitivamente dall'Egitto e dalla Siria che dopo un po' firmerà a sua volta i primi accordi e cercare di proseguire come dicevo prima una propria politica panaraba ma soprattutto di finanziamento ai movimenti terroristici e rivoluzionari in tutto il mondo arabo cosa che ben presto lo metterà in conflitto politico con l'Egitto che invece cercherà una maggiore stabilità insomma l'ultima possibilità di creare un'unione tra stati arabi cadde in quel momento e da lì in poi i vari stati invece di cercare una propria integrazione inizieranno a entrare in competizione fra di loro per motivi politici ma soprattutto per motivi economici e per cercare ognuno di crearsi la propria sfera di influenza all'interno del mondo arabo e cercando di controllare quello che con il petrolio diventerà ben presto una delle fonti economiche più importanti di tutto il mondo insomma tre unioni molto diverse talvolta volute dai governi talvolta invece maggiormente appoggiati dal popolo piuttosto che dai governi stessi che invece sono in competizione talvolta interrotti perché non c'era una vera e propria volontà talvolta invece interrotti forzatamente dall'esterno perché qualcuno temeva che quell'unione potesse diventare troppo potente di storie come queste in realtà ce ne sono moltissime in tutto il mondo magari in futuro ve ne racconterò altre anche perché io credo che ci sia sempre stato un pochettino un gioco del pendolo tra chi spinge verso un'unione tra stati con l'idea di porre un pochettino fine anche agli scontri perché se ci si trova all'interno dello stesso stato magari ci si scontra calcisticamente e un po' meno dal punto di vista militare e chi invece crede che l'unico modo per far crescere una vera nazione sia proprio tramite la competizione con gli altri stati e allora difende il proprio orticello cercando di migliorarlo rispetto a quello del vicino che è un po' se ci pensate anche la visione tra chi oggi propugna una maggiore integrazione all'interno dell'unione europea e chi invece lo vede come una perdita di autonomia e lo vede come fumo negli occhi due visioni che sono letteralmente secoli che si si combattono l'una con l'altra chissà forse dopo tutto l'idea di impero universale di Carlo V per quanto fosse un impero centralizzato nelle sue mani era già quella di creare un'unione tra tanti stati che potessero in questo modo cercare pace e stabilità ma detto così stiamo finendo in feudalesimo in libertà e mi sembra un pochettino oltre io mi fermo qua spero che questa pidora vi sia piaciuta ringrazio chi mi ha consigliato alcuni pezzi della pidora soprattutto l'unione romano bulgara me l'ha consigliato molto attivamente scrivendolo in molti commenti spero di averlo in questo modo soddisfatto se il video vi è piaciuto volete vedervi prossimi cliccate sulla campanella e iscrivetevi ovviamente al canale io come al solito vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun registro ha mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare qua a fianco ce ne rinco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo domani con una nuova pillola di storia a presto ciao ciao ciao